Anche oggi è tweet ed e allora andiamo a cercare i tweet più divertenti, intriganti e informativi delle star WWE e non solo. Partiamo con la federazione che ci mostra ovviamente la tristezza di Kofi Kingston che ha perso la sua opportunità di ottenere un match titolato per il titolo WWE visto che è stato soppiantato e scavalcato da Kevin Owens, Matt Bloom. Matt Bloom è uno degli allenatori di NXT, uno dei più importanti in WWE, ha lottato con il nome di Albert e di E-Train. E qua dove sono? Vedo delle strane scritte. Ah, ma siamo in India, è scritto qui. E sta supervisionando il più affollato try-out, quindi i provini, che la WWE abbia mai organizzato. Day one, sono al primo giorno dunque di questa ricerca in India di nuovi talenti per portarli poi in America a NXT o addirittura per inserirli in un nuovo performance center aperto in quella nazione, che è tra le più indicate per una nuova avventura di questo genere. Ed eccolo qua, il coach Matt Bloom che osserva da distante quello che questi giovani speranzosi stanno mettendo nel ring. Che bella foto, mi piace, ti dà l'idea di vigilanza, di una mente al lavoro e di tanti che stanno inseguendo il loro sogno e forse oggi si avvicineranno un passo di più verso la meta. Andiamo avanti, qui ci sono quelli del New Day. Ma dove sono? C'è il tappeto rosso, sembra un giardino, avete presente quelli della meditazione? E infatti, infatti ci sono le ragazze che stanno compiendo un rito. Ah, devono disegnargli, ecco qua, il terzo occhio. Quindi, Biggie, poi Xavier Woods, e c'è anche la sciarpa, che dovrebbe, per certi versi, aiutarti nella meditazione e alla ricerca del tuo sé interiore. E infatti guardate l'improvvisa buddhità che è discesa in mezzo a quelli del New Day, ma solo per pochi istanti temo, perché Biggie ha una faccia che non prevede niente di buono. Infatti, sono tornati gli allegroni di una volta. Però bello, piacevole questo video. Qui ci sono un po' di retweet, qui ci sono gli hardy boys. Mamma mia, che tuffi che facevano. Quanto erano spericolati. Sul sito WWE c'è un video con i loro momenti più estremi, che vi invito ad andare a vedere e a rivedere. Un po' di tweet di Dave Meltzer, che risponde ai fan, oh, quanto! Di solito non è che scriva un granché. Dana Brooke ad Atlantic City, un atleta che secondo me potrebbe giovarsi di un ritorno ad NXT, dove far vedere le sue capacità e ottenere un personaggio un pochino più aggressivo rispetto allo sparring partner che ora spesso è, nei roster principali. Tempo fa vi avevo parlato di come vedessi in Dana Brooke delle discrete migliorie, poi con l'avvento di Ronda Rousey e tutta la divisione femminile di Rowe, che ha iniziato a ruotare attorno a lei, beh, la cosa è andata scemando. Guardate, Capriole, potenza, ex sollevatrice di pesi. Dana Brooke non è affatto male. Certo è un pochettino bassa, ma tutte le atlete odierne, a parte i rari casi, non superano il metro e sessantacinque, quindi ci può stare. Qui abbiamo Asuka, che ringrazia i fan di Minneapolis per il loro sostegno. Ha combattuto ovviamente nel weekend. Qui c'è Davido Tunga che è stato colpito, comunque ha vissuto una situazione spiacevole, c'è stato un funerale, non so bene di chi, ed è andato e ringrazia la famiglia e gli amici che sono stati presenti. vediamo se c'è qualcosa di più. No, non riesco a capire. Magari andrò ad indagare. Un disegno bellissimo, Asuka con Charlotte, ma che bello che è. Bravo. Altre immagini del tryout in corso a Mumbai. Ecco qua un po' di foto dei ragazzi che stanno provando a diventare qualcuno in campo WWE. Oh la miseria, quanti sono per davvero! Sembra di stare ad una firma autografi, magari di un cantante, di quello che piace tanto a voi giovani. Eh sì, saranno 50 atleti minimo, minimo, ma forse anche di più, perché qui stiamo osservando soltanto una parte di quello che è avvenuto durante la giornata. Natalia con una frase motivazionale di Paul Coelho dall'alchimista. Page che però parla delle sue canzoni preferite, credo. Un ricordo su Ayabusa, condiviso, luttatore giapponese tra i pesi leggeri più interessanti dal suo periodo. Oh, qua abbiamo roba di un certo livello, eh? Di tanti anni fa. Kobashi, Misawa, Kawada, che ricordi? Eh, sto diventando vecchio. Page che è contenta che alcuni personaggi, insomma, dello spettacolo abbiano gradito. Il film è dedicato alla sua famiglia. Il film è partito bene, eh? Se leggete in giro il contrario, non credeteci. Qui abbiamo Batista che si arrabbia e fa del male un po' a tutti quanti. Il primo che verrà bombizzato nel video è John Cena sui gradoni d'acciaio. Questa è una top ten WWE. Vi invito ad andarvela a vedere sul sito ufficiale della compagnia. Andiamo avanti, Santino Marella. che si sta organizzando per andare a vedere o a rivedere dei match della UFC. Enzo Amore che parla di un po' di tutto. Eh, UFC 235 pare aver riscosso l'interesse e il plauso di tanti atleti WWE. Qui vediamo Big E, ad esempio. D'altronde sono sempre più i combattenti della federazione ad appassionarsi alle arti marziali miste. Doviamo Carmella che balla con Nicky Cross. Cosa è successo? Oh mamma mia! Queste devono essersi messe a ballare durante un live event. Succede di tutto in quegli spettacoli in America. Demis che pubblicizza una bella iniziativa per combattere il cancro nei bambini. Interessante. Bravo, Demis. Questo è un video di Naya Jax. Beh, è una cosa che deve essere divertente. Lei che guarda qualcuno sparare e poi la vecchia macchina del signor McMahon credo che salta per l'aria. d'accordo. Battista che ultimamente ha sparato grosso contro alcuni dei suoi colleghi che fanno cinema ovviamente per stare nel personaggio. Eccolo qua con dietro la foto di un leone. Che bello! Il quadro di un leone. Mi piace questo accostamento. Chiunque lo abbia pensato ha il mio applauso. Molto esteticamente avvincente e appagante per la vista e poi c'è lì Battista con tutto il suo fisicone. Vediamo se troviamo qualche primizia, qualche notizia un po' interessante. Questa è una roba di qualche anno fa in Giappone con degli atleti vestiti in stile Takeshi Scaston in stile mai dire Banzai. Beh, Dasha Fuentes che non è niente male come direbbe Loris Batakic della bella pastorona. Qui abbiamo un Roman Reigns d'antologia che va a schienare Brock Lesnar. Naomi che viene ringraziata dai fan perché è stata molto gentile nel fine settimana. Shinzuke Nakamura che informa i fan che sta per scendere in campo. Niente, c'è un sacco di Dave Meltzer oggi, non è mai successo. Qui abbiamo un po' di immagini dalla UFC. Qui abbiamo il fan della serata perché NXT quando va in giro in tour elege il fan della serata che ha la possibilità di fare un meet and greet con gli atleti. Qui vediamo questa ragazza con Chelsea Green. e quindi avrà un ricordo speciale di questa Kermesse. Un altro qua video di antologia con Terry Funk protagonista. Su Twitter è bello per tornare indietro nel tempo a volte per ricordarsi i lottatori che sono usciti un po' dal radar della memoria. Natalia sulla strada verso Wrestlemania sempre belle le foto di Natalia. Ecco il poster del film di Paige Fighting with my family basato su una storia vera. qui a NXT botte da orbi all'interno del ring che pestaggio mamma mia è una disputa quando si mette so botte eh? Un po' di fan tutti casati per Carmella Michelle McCool anche lei che insomma vi invita a guardare il film di Paige fra qualche settimana circa arriverà anche in Italia quindi pure noi potremmo sostenerlo e andare al cinema a guardarlo qui abbiamo Tucker e Otis gli Heavy Machinery che salutano i fan si maniano anche qualcosa? Eh questi due ragazzi con la personalità dei Butch Wakers di una volta potrebbero fare molta fatica nei roster principali staremo a vedere se in qualche modo riusciranno a farsi strada però la vedo un pochino dura eh un pochino dura Mick Foley che è andato in giro a incontrare qualcuno che non riconosco magari voi mi aiuterete qua sotto nei commenti qui abbiamo Paige che va a fare il suo provino almeno cinematografico o che entra al Performance Center per la prima volta credo che entri al Performance Center per la prima volta Ember Moon che però non ci dice niente sui tempi del suo ritorno altre immagini da NXT a Pittsburgh dai 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 prima di salutarvi voglio qualcosa di di grosso una bella notizia Jack oggi ce l'ha con le armi eh non lo so fuori la cartuccia è andata a sparare un po' per sfogarsi Titus O'Neill con i figli è stato ad un evento dell'Adidas a Miami probabilmente di beneficenza Titus fa un sacco di queste cose io credo che lui piaccia molto alla dirigenza da WWE perché è davvero davvero impegnato nel sociale e ci crede qui abbiamo la legacy l'eredità della famiglia Rhodes che si tramanda da padre a figlio o a figli bella questa immagine mi piace qui per Wrap Up Down Down lo show YouTube Xavier Woods ti viene chiesto di scegliere il tuo eroe ovviamente associandolo ai vari personaggi giocabili anche Asuka è una appassionata di fumetti qua gli è arrivata la collezione Darius che io conosco poco però lei si sta divertendo c'è anche il cd allegato quindi Asuka parzialmente una di noi chissà magari questo weekend magari venerdì vado alla fiera dei fumetti lì a Milano vediamo se ci vado vi do le coordinate per incontrarci Vicky Guerrero è sempre in giro anche lei per eventi e manifestazioni Cesaro ha fatto la valigia e pronto a partire ecco la valigia di Cesaro valigia e zainetto con scarpe veramente cool alla moda però non ci dice dove va eh Cesaro probabilmente inizia la settimana lavorativa eccolo qua Taitus con uno dei figli Daria Berenato vero Sonia Deville però non ci racconta niente qui abbiamo una cintura della WWE veramente un sacco di Dave Meltzer ma è così oh Roman Reigns attenzione Roman Reigns ah che sarà su Nickelodeon con la trasmissione Causing for Life vediamo qualche immagine se riesco eccolo qua sul set col cagnolino con la famiglia e ancora che porta questi due ragazzi tenendoli in maniera molto potente eh che li riporta non so dove però come l'impressione che due abbiano combinato qualche mezzo disastro e Roman li stia a redarquendo beh dai bene speriamo che Roman si rimetta presto so che state assimilando tutti i rumors che ci sono in giro al riguardo mi raccomando prendeteli con cautela perché l'80% delle cose potrebbe essere una gran fesseria intanto una preview Mandy Rose ha sfidato Asuka a Fastlane e il match è ufficiale Taito Sonili ritittato da Xavier Woods in India no non ci credo chi ha fatto questo fatto vantaggio è straordinario chiudete l'internet va bene questo era allegrato la giornata qui abbiamo maschere di Asuka come se non ci fosse un domani e Alkogan o almeno credo che sia una sua foto con una bella moto NWO brandizzata è questo bambino che si diverte facendo una foto ricordo in questo angolo di paradiso che credo sia un museo o forse addirittura il negozio di Alkogan dedicato ovviamente all'immortale bellissimo bellissimo chissà che gioia per questo ragazzino conservare la foto rituitata niente meno che proprio dall'Alkogan stesso fantastico beh direi che per tweet edi finisce qua altrimenti la tiro troppo per le lunghe mi raccomando però continuate sempre a visitare il canale del Bardo il canale il canale di il canale Grazie a tutti.